Nuovi sopralluoghi e accertamenti scientifici si sono svolti nei giorni scorsi in Via Crispi a Cattolica Eraclea nel laboratorio del marmista 67enne Giuseppe Miceli, che il 7 dicembre del 2015 venne assassinato nello stesso luogo. Accertamenti che sono stati richiesti dai difensori di Gaetano Sciortino, anche egli cattolicese come Miceli, l'operaio 53enne accusato di essere l'autore del massacro e dell'omicidio dell'uomo. Il 67enne venne brutalmente ucciso a colpi di oggetti contundenti, lastre di marmo e arnesi da lavoro, alla testa e al torace. I risultati degli esami ai quali avrebbero partecipato consulenti di difesa e procura sono al momento sconosciuti. Verranno resi noti, probabilmente, nelle prossime settimane, quando andranno a far parte del fascicolo del processo. Sciortino fu arrestato lo scorso 20 ottobre dai carabinieri, misura poi confermata anche dal riesame di Palermo. I suoi legali si sono rivolti in questi giorni alla Cassazione per impugnare la decisione del riesame, che a sua volta aveva confermato l'ordinanza del GIP Stefano Zammuto, e chiedere la scarcerazione di Sciortino. La decisione dei giudici Armellini non è stata ancora presa, non si esclude che possa arrivare nelle prossime ore. Non chiaro, ancora oggi, risulta il movente del delitto. Ad un certo punto si ipotizzava una rapina, ma l'ipotesi è stata poi scartata. A coordinare l'inchiesta durante l'attività investigativa, il PM è Silvia Baldi. Il fascicolo è adesso nelle mani della collega Gloria Andreoli.